This is Soundbeam, the radio show of Claude & Lode. Ciao a tutti ai people, siamo Claude & Lode da Italia. Questo è Soundbeam Radio Show, episode numero 113. Check this Sound. Ciao a tutti. 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 . 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 La casa culturale, per me, è la musica fondamentale. È anche un gruppo di persone che ha un'attività di finanziarie, di color, di città, non ha un'attività di il dance floor. Non ha un'attività di un'attività di un club, di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività. That stuff does not matter. If you want to get down to where the vibe and the music all started, you should go to Chicago. If you want to get down to where the vibe and the music all started, Sì, dovremmo andare a Chicago Sì, dovremmo andare a Chicago If you want to get down to where the vibe and the music all started You should go to Chicago If you want to get down to where the vibe and the music all started If you want to get down to where the vibe and the music all started If you want to get down to where the vibe and the music all started If you want to get down to where the vibe and the music all started If you want to get down to where the vibe and the music all started Grazie a tutti. 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 This is... This is... Grazie a tutti. This is... This is... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sound being... The radio show.